All'ospedale di Sansevero è stato tolto il servizio chirurgico di Otorino la ringoiatria. Uno scippo ai danni della città, ha commentato il sindaco Francesco Miglio, subito dopo aver appreso la notizia del recesso dell'erogazione del servizio specialistico chirurgico dell'ospedale Marselli Mascia. Mi è giunta notizia che l'ASL Foggia ha comunicato all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Cardarelli di Napoli il recesso unilaterale della Convenzione per l'erogazione di attività specialistica in chirurgia Otorino la ringoiatria a far data dal prossimo primo giugno. Se la notizia di per sé preoccupa un'intera comunità, ha detto il sindaco Miglio, annuncia che costituisce l'ennesimo colpo inferto all'ospedale di Sansevero e lascia basiti la motivazione che giustificherebbe la decisione dell'azienda sanitaria locale sopravvenuta carenza di interesse assistenziale. In soldoni non ci sono più pazienti, dunque il servizio non serve più. Una motivazione da attente informazioni assunte, continua Miglio, che risulterebbe essere priva di ogni fondamento atteso, che grazie alla fiducia che pazienti nutrono per il livello professionale offerto, vi sono prenotazioni per interventi chirurgici fino alla metà di settembre 2023. Per questo ho scritto al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una nota di protesta chiedendo di valutare immediatamente e seriamente l'aspetto dei costi previsti dalla Convenzione per il Servizio e soprattutto di poter immediatamente annullare il provvedimento dell'ASL. Credo che il Presidente Emiliano interverrà sulla questione evitando questo scippo ai danni della città.